Sport e solidarietà con Elpa Haiti La corsa per Haiti non è solo un evento sportivo di grande richiamo. È una manifestazione di solidarietà collettiva ed estremamente efficace. Chi da più di vent'anni, coinvolgendo centinaia di volontari consapevoli e motivati, propone momenti di sport e partecipazione umanitaria. Assieme alla ONLUS Pane Condiviso, tanta è stata la strada percorsa, ma tanta ne resta da percorrere per valorizzare efficacemente quanto fino ad oggi costruito, che non è poco. Si pensi che, oltre alla realizzazione di una casa scuola di accoglienza per quasi cento bambine tramite il gruppo Elpa Haiti, due giovani poverissimi ma volenterosi hanno potuto percorrere tutto il corso di studi fino alla laurea. Il ricavato di oltre vent'anni di manifestazioni ha consentito poi a numerose ragazze di crescere ed essere educate in un ambiente sano, con affetto, strappendole alla strada e alla miseria. Dopo la scuola primaria, grazie alle religiose salesiane guidate da sua Ranna, c'è stata la possibilità di imparare un mestiere che ha consentito a tante di loro un avvenire dignitoso. Grazie poi alle risorse economiche frutto della nostra corsa, ogni nuovo giorno si riesce a sfamare decine di bambine e questo è l'aspetto forse più incisivo, anche se poco appariscente. E tutto questo in un paese dove, alla fame atavica, si sono aggiunte calamità e oppressione politica, di cui il mondo è tenuto colpevolmente all'oscuro. Se dapprima il gruppo di appassionati amici ciclisti, promotore della manifestazione, si è limitato all'ormai conosciuta corsa ciclistica, ecco che il comitato, andato evolvendosi negli anni, ha allargato l'interesse a varie altre discipline, sia dello sport del pedale, quali la mountain bike e il cicloturismo, sia per altre specialità, quali la corsa a piedi ed il nuoto. Tutto ciò nella speranza di poter realizzare un progetto teso alla valorizzazione di un lungimirante investimento attuato, con non pochi sacrifici, dalle persone che per prime hanno creduto in questa straordinaria iniziativa umanitaria. Il progetto prevede la costruzione di una struttura pluriuso destinata ad accogliere anche le persone che vorranno toccare con mano la degradata realtà haitiana. Si tratta di un programma oneroso, ma che auspichiamo possa dar vita a nuove efficaci sinergie in un ambiente più dinamico e adeguato. Un investimento nel quale crediamo profondamente e che evidenzia con efficacia come la solidarietà dimostrata alla corsa per Haiti non cada nel vuoto.